Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Oggi pomeriggio tra le 15 e le 18, corteo tra Piramide, Viale Aventino, Via di San Gregorio, Via Labicana, Via Emanuele Filiberto e Piazza Vittorio. Sono previste temporanee chiusura al traffico e deviazioni per 27 linee tra bus e tram. Le altre notizie, domani mattina tra le 10.30 e le 13, per dei lavori che interesseranno le stazioni ferroviarie di Ponte Galeria e Roma Ostiense, sono previste alcune modifiche sulle linee FL1, FL3, FL5 e Leonardo Express. Previsto un servizio con bus tra le stazioni di Roma Termini e Fiumicino Aeroporto. Aggiornamenti e dettagli su Trenitalia.com. Aggiornamenti e dettagli su Trenitalia.